Consigliere Luigi Mele, in questi giorni abbiamo ascoltato le parole dell'ex sindaco Ciro Borriello che ha fermato Luigi Mele da oppositore spietato a sostenitore di Palomba. Lei cosa pensa di queste parole? Allora io dico che chi vuole bene alla città non può parlare in questo modo. Lui sa benissimo i consiglieri della federazione che i problemi hanno portato anche a lui quando era sindaco di questa città. Io non sono sostenitore di Palomba, io sono sostenitore della città come ho già detto più volte in altre interviste. In questo momento penso che era la cosa più sbagliata quella di abbandonare la città senza dare il giusto contributo. Sicuramente se c'era la volontà vera da parte di quelli della federazione di voler andare a casa, Giovanni Palomba l'avrebbero fatto con un documento scritto, cosa che invece non è mai avvenuta. Nel momento in cui il sindaco ha dato impegno e ha messo fuori persone che potevano in questo momento ricattare il sindaco stesso e non dargli la possibilità di poter lavorare nel migliore dei modi, ho creduto importante dare un contributo e far sì che mettendoci la faccia, prendendo comunque la delega forse un po' più difficoltosa, più rognosa, ho dato la mano alla città e non al sindaco Palomba. Dopo la nascita della nuova giunta Palomba a Torre del Greco, molte sono state le polemiche, soprattutto per quanto riguarda l'assessorato con delega alla nettezza urbana. Una situazione spinosa, quella dei rifiuti, che già da anni provoca il malcontento dei cittadini. Noi abbiamo iniziato circa dieci giorni fa, abbiamo già incontrato la ditta, stiamo dando delle linee di indirizzo. Chiaramente in città un piccolo segnale si vede, la gente ci chiede tanto perché sicuramente il piano industriale non è uno di quelli fatti a regola d'arte e cercheremo dove è possibile di poter sostituire o portare il giusto contributo per cambiarlo in qualche modo. È vero che le difficoltà sono tante, qualcosa si sta già avvedendo, inizieremo dalla prossima settimana già, adesso faremo un incontro anche con il comandante dei vigili urbani, ad iniziare da una strada sperimentale ad eliminare i bidoni dai marciapiedi. Chiaramente le cose da fare sono tante, c'è bisogno della mano di tutti, però un appello importante lo voglio fare alla città. Non è possibile, ho visto poco fa delle immagini di un frigorifero buttato a via Diego Colamarino, centro storico della città. Mi sembra assurdo che nessuno abbia visto nulla e mi fa sorridere perché se qualcuno sta cercando in qualche modo di voler portare e di creare problemi al gruppo che in questo momento si è caricato, di cui grosse responsabilità, volendo dare un contributo importante e far sì che la questione N.U. possa in qualche modo essere risolta a Torre del Greco, credo che abbia sbagliato proprio strada perché nel momento in cui troveremo e riusciremo a segnalare persone che fanno questo tipo di cose credo che se la vedranno veramente brutta. Quindi lo dico a chiare lettere in maniera molto chiara, state attenti quando andate in giro a buttare i rifiuti non autorizzati perché poi passerete un brutto quarto d'ora e non ci saranno poi santi da poter interpellare. Quindi una grossa responsabilità per il suo assessorato ma prima di tutto ci vuole il buon senso dei cittadini. Sicuramente tutto parte da quello. Qualcuno mi sta attaccando dicendo che allora la ditta è buona, i cittadini non sono buoni. Io non sto dicendo assolutamente questo. La ditta ha sicuramente i suoi problemi, i cittadini creano qualche problema. Con il senso civico riusciremo a risolvere tutto. Se non c'è senso civico ovviamente diventa tutto più complicato ma noi non ci abbattiamo, andiamo avanti convinti per la nostra strada e cercheremo di dare il giusto contributo per risolvere quanto prima questa questione che veramente è un peccato in una città come la nostra trovare i rifiuti per strada credo che non faccia bene a nessuno. Quindi di conseguenza se siamo convinti di voler dare una svolta la dobbiamo dare tutti quanti insieme e io questo voglio che la gente ci dia il contributo giusto. Quindi faccio di nuovo l'appello a chi vede in qualsiasi ora del giorno e della notte persone scaricare rifiuti per strada ci deve assolutamente avvertire, deve segnalare se può fare delle foto, recuperare i numeri di targa perché queste persone la devono pagare e non può andare liscia per chi fa questo tipo di abusi.